Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video qua sul mio canale in compagnia di Dybala Giuseppe Allora raga Faremo giusto una o due partite Siamo sorelle amici vedi? Sì siamo sorelle bello Oh Michele serve lo facciamo insieme No dai Allora raga scrivetemi nei commenti qualche challenge Cioè votate nei commenti che challenge volete nel prossimo video Se No build challenge No build challenge No pickaxe challenge Oppure la challenge che possiamo prendere solo le armi Che prendiamo nella lobby Della stessa realità ovviamente Oppure solo armi bianche scegliete un po' voi nei commenti Però raga Appena uscirà questo video Se entro due ore Nessun avrà votato Faremo diciamo tutti i video Delle challenge possibili e immaginabili Anche se Gonx se le inventa tutte lui le challenge Cioè Non è vero Tutte i two player one console No la no building challenge l'ha inventata Gonx La no pickaxe challenge Gonx Ma io non ho capito ancora che cosa significa la no building challenge No La no building challenge Che non puoi prendere materiali Poi solo luttare materiali Ma quella è la no building challenge No quella è la no building challenge Poi vabbè se fai la no building challenge neanche ti serve il piccone Sei tu sopra sei tu sopra No Seguimi seguimi Fra vieni vieni Fra vieni Questa è un pump Questa è un pump Arrivo L'ho preso Vabbè questo non è Saliamo saliamo Cacchio non ho materiali Eccolo Dai come faccio di morire Oh mio dio Dai dietro Dai dietro Dai dietro Dai non hai Sto tuo E' forte 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 Eh vabbè Oh come mi ha fatto a prendere poi Cioè io non ho capito No era un zio Era un zio Era fortissimo Lo youtuber fortissimo Italiano Se Wizard Joe non si fa manco colpire da uno come te E neanche da uno come me E che ne sai tu Non aveva ammazza Allora forse si è fatto colpire We dead Joe se non ammazza Questa è la gioca tattica Ma vediamo quanto è durata sta partita Tre minuti è durata sta partita Però è stato lo stesso Bella eh Ora è il tempo quando si gioca a fortnite Quando si registrano video Il bello è che uno l'ha atterrato Cioè io non voglio capire come ha fatto a non morire Spai voglio vedere proprio se Li lucido la faccia sto Ragnarok Se gli piace Ti lucido Ti lucido l'armatura Se si vede la faccia di Ragnarok No Non si vede la faccia di Ah no Madonna ragazzi ho guardato la faccia di Ragnarok Oh mio dio Oh mio dio Non c'ha nulla dentro No la faccia di Ragnarok Non devi metterti bene Dove è Dove è Raga io sono un imbecille Perciò quando io registro il video Non mi accorgo se sopra esce l'icona che sto registrando Non mi dire che non lo stai registrando E quindi a volte Tipo il video di prima che Giuseppe ha detto Non caricarlo non l'ho registrato Speriamo che almeno sto video lo sto registrando Perché se non lo sto registrando sto video io mi sparo Cioè non è la vita reale E su Fortnite mi suicido Cioè mi prendo Cerco delle Klinger No vieni 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 No vieni 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 No vieni 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 No vieni vieni Fratello c'è frate Fratello Ho un bel look fratello Ho da me Eh fratello non ti posso arrivare da te fratello Eh fratello se non vieni fratello Fratello vieni da me fratello Ma che c***o Se non gliel'ho dato proprio Sono giusto un po' morto ma giusto un po' Arriva arriva arrivo Arrivo fratello arrivo Adorno a questo Cinque secondi che lo scudo arrivo I'm coming to you My friend I'm coming to you Dov'è? A terra Ah ci godo Ma quanto cavolo ci godo Ci sto godendo troppo nella vita Ci godo un botto fra Dove stava? Dove l'hai ucciso? L'ho ucciso già Dov'è? Lasciami a me l'accesso Oh me mi La provo io però Grazie Prego Da me Ma porca pu... Che? Che? Non lo mi provai Non fammi dire parolazze per favore Oh mio dio La faccio? Che cosa? No 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 Non la devi spiegare queste occasioni Eccoli la Ma stavo appena dicendo Eh Ma vai a vedere dove sta Ma lo vi dico Raga io ho 62 di ping Oh Mickey Ma pusciamo per favore Ce andiamo? Questi qua sono gli nanti Che usano la minigam Ma questi qua ci ammazzeranno Perché hanno la minigam Vuoi scommettere? Quanto vuoi scommettere Che questi qua ci ammazzano Che la minigam? Io tutto Vieni su questa casa Mi ti segui Se ci hittano Io sparo il forte Non ci credo L'ho lasciata malissimo Dove sta? E' quella a casa là E' quella a casa là Guarda No l'altra Busciamo? Basile Perché io non ho visione Sarebbe stato più figo Pusciare con i bouncer Però Non lutare Sarà lutare L'hanno ammazzato Quello con la minigam Ma c'è? Ovviamente sono qua Uno di ombro c'è un peso la ground credo sì una senza film una terra vieni vieni corri corri muovi ti muovi di veloce eccolo lì è lì la troppo è mia vabbè sono morto io ti muoio ma non muore questo gli ho fatto sei pompe in testa ma perchè li hai spaccato perchè ha spaccato la trappola vabbè no 18 non ci voglio credere raga ma perchè gli ho fatto sì col pompe perchè se no l'avevi già ammazzato ma sto pompe di me ma io il tattico non lo prendo più non me ne frega il tattico fa schifo ma a te ti piace il tattico ti do il tattico ma non è che mi piace è il terzo pompa su quattro che preferisco quindi ma sei in testa amici ma come si fa a fare 6 in edge almeno per una volta io ho fatto un video se non mi sbaglio con un mio amico e ha fatto per una volta 86 in testa e 137 in testa e ne ho atterrati due credo ne abbetto col piccone di raga rottetel dove andiamo ma non me ne frega io ma gioco fortissimo basta non può andare bene non è come nel calcio che se ti concentri un botto lasci a vincere qua o ti alleni o te alleni andiamo a pinnacoli seguimi che c'è un palazzo quando di solito non ci va nessuno però lo so pure quel palazzo qual è però secondo me c'è la gente oggi ma io voglio capire una cosa no pinnacoli è la città più vecchia è quasi la prima città che uccidano ma io voglio capire perché ci vanno tutti perché c'è un botto di root forse no non c'è nessuno vieni niki oh non la faccio andare no no vabbè il caccio te lo ho tenito mi sa che sono niki te lo dico se non trovo se trovo il taccico blu te lo vedo in caccia il blu non c'è nessuno vabbè l'ho capito non prende lo sesso tanti dai ammelo sta arrivando e vieni giù tacc porca da me già fa giù mi dà il tacc veloce miki ho scaroro ok scaroro dopo saliamo sul tetto sul tetto sali sul tetto sali sul tetto sali sul tetto miki vieni sul tetto cos'è un vantaggio d'altezza hai colpi piccoli che mi sono presa la pistoletta vieni sì ma non ce l'ho che non mi rilasciato l'ho riusciato malissimo ma va bene 86 oh mio dio quella la si è sicilata ma questo è quel vieni se aveva colpi pesanti me li dai che io ne ho uno uno tieni i colpi piccoli miki che mi posso dare tutti dove sta? qua hai raggi miki? no purtroppo vieni segui segui o qua c'è gente arrivo arrivo no vabbè è possibile cosa? da dove? compagno di volo come ho fatto a eliminarmi compagno di volo 8 di vita 8 di vita non ci credo raga per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione lasciatela condividete sui vostri amici ktoś le faccio non c'è un difficile 你有 proprio con la visione di kung duties arsene passano via o non c'è un'altra fredda la visione di volume